grazie 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 allora vi chiedo di scendere per favore lasciamo un po' di spazio lasciamo un po' di spazio al gruppo eh grazie come uno s'è andato uno è dimagrito ma qua no no sono andato come facciamo fuori 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 vabbè dai mi dispiace per lui il vestito cucito dalla mamma scusami dai facciamoli gareggiata dai un attimo vai 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 caso vai vai che io intanto ho dimenticato di chiamare in causa una persona la signora di polizia lo dicevano quello che scusami puoi venire anche tu dopo vieni ci fanno male poi lo eeeh appena l'ho visto che bello mamma mia un attimo come ti chiami? non sia non sia non sia non sia non sia quando hai lavorato scusa prima di venire quanto hai lavorato prima di venire? tanto? eeeh si sente vai aspetta qua eh non sia non sia non sia non sia non sia non sia Ok, ok, solo, ok, ok, se solo vuole, io non è che voglio, allora, io vorrei soltanto dire una cosa, se posso fare un'osservazione, no? Immaginate il tempo speso per la coreografia, per il vestito giallo che ha cucito la mano, no, no, non voglio, no, 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 obiettivamente per maschera originale si deve intendere, si deve intendere anche il tempo che uno è impiegato per preparare tutto, ah, pure tu le hai cucite solo, va bene, ok, però ecco appunto, eh sì, ce l'ho assai tempo, no, però voglio dire, cioè, grazie, 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 grazie. Eh sì, sì, ma? Marco Antonio, eh un attimo, cioè, sul cubo, la nostra Nunzia, sul cubo, mamma mia Nunzia, mamma mia Nunzia, mamma mia Nunzia. Non c'è bisogno di fare tutto questo. Grazie, grazie, grazie. Per favore, per favore, adesso un po' di attenzione. Un applauso per i Flintstones. Per favore, le urla non fanno parte dell'applauso, soltanto le mani. Soltanto le mani. Grazie. Cleopatra. Esclusa Cleopatra. Esclusa, mi dispiace. Io ho detto, le urla non fanno parte. Mi dispiace. Joker. Homer. La nostra Raffaella. Ragazzi. Basta. Nunzia. Marcantonio. Ti marchio sulla testa. Il nostro gruppo Gamma e Style. Ok. Rimangono il gruppo... E Raffaella. Tutti gli altri, per favore, scendano dal palco. È non visto, non visto. Adesso, chi ha votato per coloro che sono stati esclusi, decidano se tra i due preferiscono qualcuno. Adesso, decidete. Ci siamo. La targa la vincerà soltanto uno di loro. Ci siamo? L'applauso per il gruppo Gamma e Style. L'applauso per Raffaella. La maschera più originale per il Revalio 2013 è qua. E Raffaella. E Raffaella. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti